Cosa stavamo facendo? Non voglio prendermi un'altra sfidata per niente. Promesso? Promesso! E intanto noi cosa facciamo? Se volete possiamo ripassare. Io non ho capito l'esercizio di inglese. Di essere sincera non ho neanche finito il compito di matematica. Che ne dite? Voi ci state? Io penso che prima potremmo godersi qualche giorno di festa. Hai ragione, almeno oggi non facciamo lezione. Ma facciamo un bel torneo. Ma forse dobbiamo sbrigarci, forse non c'è tempo da perdere. E se passa troppo tempo la mia mara sarà persa per sempre. Io volto pensare subito. Anch'io sono d'accordo, anche voi. Anch'io, anch'io, anch'io! Pure io e poi ho sul calcio. Sì, bene, spero che siano tutti d'accordo. Allora, diventiamoci i gruppi e andiamo a parlare con tutti e l'altro. Matilde, Yassidi, Nicola, Lorenzo, Maria, Elsa e Riccardo, primo gruppo. Corinna, Greta, Iva, Greta e Evelyn, secondo gruppo. Sofia, Aleta, Carlotta e Nea, terzo gruppo. Forza, all'amore! La madre dice che se non mangi il pesce perdi la memoria e man mano che fai le corde il tuo cervello si riempie e comincia a dimenticare. Bisogna mangiare pesce azzurro! Azzurro! Cioè! Sardine, sgondri! Ma che schifo! Preferisco essere smemorata al posto di mangiare quella roba. Ehi, state zitti! Sì, brava, state zitti che stanno arrivando. Allora, che succede? Le altre classi sono tutte come la nostra. Non c'è nessun adulto, nessun video, nessun professore. In pratica ci siamo solo noi bambini. Ma cosa potrebbe essere successo? Saranno dimostri a lei. Ma non dire scemente. Evidentemente oggi era festa, ma adesso i genitori non lo sapevano e ci hanno portato a scuola lo stesso. Ma che è il favore? E se si fossero veramente dimenticati? Ma dice che anche loro non mangiano abbastanza pesce. No, dai, sono seria. E se si fossero dimenticati che anche oggi dovevano venire a scuola a lavorare, a cuire e a insegnare? Beh, non so, a voi, ma a me non gli spiace questa situazione. Nemmeno a me, neanche a me. Potremmo pensare a un torneo per capire quale classe è più brava. Che ne so, a calcio o a nascondino? O a guardie ladri? Un mega torneo! Sì!